Ci troviamo nella sede dell'Associazione Culturale IDOC di Via Campana IV in compagnia di Gabella Silvia Tartarone, direttrice artistica e Michele Caputo, l'attore e comico napoletano, dopo ci spiegherai perché sei qui. Gabella, conferenza stampa di presentazione, oggi si presenta appunto la nuova stagione, dacci qualche anteprima. Tanti nuovi corsi, tra cui recitazione cinematografica e se volete sapere gli altri corsi da cosplay, tutte le novità che ci sono, basta andare sul sito www.idocnapoli.it Da quando si parte? Dal 5 settembre si parte, il 5 settembre iniziamo, se volete sapere quali sono i corsi, sempre sul sito, si trovano tutte le informazioni. Tutte le informazioni utili. Vicino a te, Michele Caputo, perché non lo introduci un po'? Questo ragazzo qui, vabbè, ma non c'è bisogno di introdurlo, vai, vai, fate parlare lui che è meglio. No, io, come dicevo, sono un amico di Gabriela e dei doc e terrò un corso, uno stage più che altro, sulla comicità. Premesso che la comicità non si può insegnare, è divertente, poi puoi assicurare guadagnare una cosina di solito. Quindi tante novità in attesa di settembre, visita del sito. No, vi aspettiamo. Bocca al lupo. Grazie.